Luca, la gente che lui ci ha fatto emozionare, dopo continua a farci emozionare, perché oggi non nascondo di essere più emozionato. Luca è in questo momento il rappresentante morale di un intero territorio. Credo che le due comunità di Terpizzi e Rubo hanno fatto una cosa intelligente. Invece che litigare per appropriarsi della proprietà intellettuale di Luca Mazzone, hanno invece fatto una cosa molto intelligente, hanno detto che Luca è figlio rappresentante di un intero territorio.